Per fare una prima conclusione di questa tavola rotonda con te Presidente, però vorrei anche chiederti se mi fai un accenno a cosa pensi, ormai è un po' uscito il piano del recovery plan, a questi investimenti, questa massa di investimenti in un settore che abbiamo visto con De Molli valere una quantità, un 14% del piglio italiano. Quindi una prima conclusione, però anche con un piccolo accenno se mi puoi dare a questi investimenti che noi ci atteniamo dall'Europa. È una grande opportunità per il turismo, secondo me i mainstream le fanno le grandi società finanziarie di investimenti, le banche, dove si dice che bisogna investire sulla sostenibilità e quindi il business è tutto lì, quindi rifai… è anche giusto perché poi uno ne condivide i principi, però dobbiamo ricordarci che il capitale muove le idee e non solo muove le idee, muove le aziende e poi trasformarsi e quindi muove anche i consumatori. Quindi è un sistema circolare dove in maniera ironica noi ci dobbiamo riferire a quello che il mondo oggi è. Per il turismo noi dobbiamo innovarci, innovarci significa va bene il digitale e sono sicuro che è una scelta giustissima, va bene le chatbot, va bene i sistemi di intelligenza artificiale perché danno sempre più servizio 24 ore su 24 ai clienti e quindi hanno sempre più possibilità di informazione e questo è fondamentale, però dobbiamo renderci conto che questi sistemi e la trasformazione di questi sistemi per le aziende che operano nei nostri settori porteranno sicuramente a qualcosa da pagare che sono in termini di posti di lavoro che sicuramente nei primi due o tre anni del recovery di questa crisi nel turismo ci saranno da una parte, dall'altra io penso che l'obiettivo è anche di rilanciare l'immagine del paese oggi come oggi, raccontare una storia di come stiamo affrontando questa crisi sanitaria e crisi economica e cercare di rendere esplicito nel nostro paese delle regole chiare che possono essere seguite anche dall'estero per chi interessa a ritornare nel nostro paese. Quindi sicuramente ci saranno degli investimenti nelle infrastrutture, investimenti che serviranno per modernizzare le infrastrutture dove oggi non ci sono, investimenti sicuramente nella sostenibilità nel digitale, io penso che questo possa aiutare il turismo, però ripeto, molte volte creare un centro nevralgico e lo ripeto, l'ho detto anche prima, dove uno riesce a leggere i dati che ti vengono dalla telefonia, che ti vendono dai sistemi di pagamenti, dalla società leader come Telepass, da noi stessi, questo può aiutare step by step in una consultazione il rituale diciamo, ma dare quelle informazioni giuste per cui i soldi sono investiti velocemente e bene, soprattutto tempestivamente perché chiacchiere, se ne sono fatte tante, aiuti, 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 aiuti e oggi non abbiamo ancora visto una lira come sistema aziendale e quindi da questo punto di vista io rappresento confturismo, quindi io vedo il turismo a 360 gradi, certe categorie hanno preso pochino, certe niente, certe hanno preso o tutte prenderanno, perché non hanno preso niente, non è stato erogato nulla, questa è la vera emergenza oggi, che vendiamo le cose prima che succedano e da questo punto di vista politico dobbiamo essere più bravi, forse noi alzare la voce e forse il sistema della politica e della burocrazia che sta sotto la politica, essere molto più efficiente e dare dei risultati veloci. Grazie, grazie, come non condividere quello che dice il Presidente Paternè, anche perché i titoli dei decreti sono fantastici, poi però bisogna portarli a casa quei titoli, perché se no ci rivengono soltanto i titoli nei giornali e nei nostri talk show. Grazie a Luca Paternè, Presidente Confturismo e Presidente Gruppo Uve.